L'attuale amministrazione comunale di Aquiterme non stravolgerà alcuni progetti di trasformazione di alcune zone della città legati ai fondi PNRR pensati dalla precedente giunta, ma porterà soltanto alcune modifiche, volte ad un'ortenizzazione a livello economico. Ad esempio per i restaini di Corsobagni il progetto originario prevedeva un investimento maggiore per il recupero del sottostante Parco Savonarola, un piano troppo ambizioso secondo il sindaco che vorrebbe invece di ruotare la maggior parte dei fondi sul corso con la riqualificazione del verde, degli aree di urbani e di tutti gli spazi. Il Parco Savonarola si farà, spiegato l'assessore ai lavori pubblici, ma senza le rampe coperte di verde, un impegno economico meno gravoso quindi per Palazzo Levi. L'amministrazione attuale intende inoltre a portare modifiche anche alla ristrutturazione della casermetta Bainsizza e alla riqualificazione dell'area antistante del Palacongressi in zona Bagni. Per la Bainsizza, ha continuato l'assessore, in origine erano previsti due lotti di lavori, ma i fondi ottenuti dall'ex Giunta, pari a 2 milioni di euro, riguardavano solo un lotto. Con i fondi disponibili al momento quindi non sarà realizzata la passarella esterna prevista, ma non escludiamo che in futuro, se arriveranno nuovi finanziamenti, si potranno effettuare ulteriori interventi migliorativi. Per quanto riguarda l'area antistante e il Palavuggine, l'attuale Giunta ritiene non indispensabile realizzare una sorta di piazza ampiteatro all'aperto, ma piuttosto rivalutare l'intera zona Bagni nel complesso, compresa l'area delle antiche terme e il centro congressi stesso e la piscina. I fondi destinati dal piano PNRR per l'opera erano equivalenti a circa 700 mila euro.